squadre che incontreremo, se troviamo delle difficoltà a livello di campo, di qualunque cosa, se abbiamo i numeri per poter giocarceli, ce li giochiamo sicuramente. Per quanto mi riguarda Di Napoli, ha fatto delle dichiarazioni nell'articolo, ma già al campo, poco ortodosto, dico la verità, ognuno la partita la guarda con i suoi occhi e io onestamente come allenatore non lo rispetto per un motivo, lui a giugno è stato sul campo di Orta insieme all'amico mio Ciccio Stellato e mi ha chiesto di venire ad allenare a Orta portandoli 30 mila euro di responsabilizzazione, io l'ho rifiutato come allenatore e questo è uno di quegli altri 8-9 che appartengono a questo gruppo di allenatori, secondo me se si dimette e se ne va, risparmiare qualcosa di soldi al Presidente Aveta, stanno ancora questi allenatori che fanno questo? Stanno penultimo, ci stanno dimettendo un sacco di soldi perché se andiamo a valutare i giocatori che ha portato questo di Napoli, secondo me gli costa ad Aveta quanto costa l'ortese a me, questo è quello che ti posso dire. Si è inclinato l'accordo di amicizia Presidente Sicuramente, sto dicendo delle cose molto gravi e me ne vedi tutte le responsabilità perché sono cose che sono successe sul campo di Orta, come di Simone c'era Alessandro Ciccio Stellato, amico su e amico mio, lui è un allenatore che ogni anno ha bisogno di qualcuno che sponsorizza questa cosa e lui ti porta le responsabilizzazioni. Io già stavo scrivendo qualcosa, stasera la metterò su Facebook proprio risposta al suo articolo, dico vabbè tu forse non puoi spendere perché giustamente porti le responsabilizzazioni per le mani ed è giusto così che gli fai spendere una cosa, gli ha dato una mano a questo Presidente, questo è tutto.